il leader del carroccio ha fatto tre nomi di area di centrodestra non c'è la seconda carica dello stato secondo alcuni proprio per evitare di bruciarla prima del tempo ecco i profili dei candidati marcello pera letizia moratti e carlo nordio ma non per ora elisabetta casellati matteo salvini ha fatto i tre nomi del centrodestra per la presidenza della repubblica candidati che ha definito non di bandiera ma che di fatto sono molto legati alla forza politica e difficilmente potranno raccogliere il consenso al di fuori dei banchi di fai lega e fd nessuno di loro ha una tessera di partito ma hanno ricoperto ruoli importanti ha detto salvini nel corso della conferenza stampa di presentazione a contare in questo momento di stallo politico è la prima mossa il centrodestra ha fatto il gesto il centrosinistra ha risposto dicendo che non contrapporrà un'altra rosa e ha rilanciato chiedendo un incontro molto probabilmente l'accordo non sarà raggiunto su nessuno di questi nomi a mancare rispetto alle indiscrezioni della vigilia è il nome della presidente del senato casellati e secondo alcuni è una strada voluta proprio per non bruciarla la presidente del senato elisabetta casellati non è nella nostra rosa dei candidati perché vogliamo che le cariche istituzionali siano tenute fuori e abbiano in sé la dignità di essere una possibile scelta ha detto salvini il primo nome fatto dagli alleati è quello di marcello pera classe 1943 è stato senatore fai e popolo delle libertà dal 1996 al 2013 ha ricoperto l'incarico di presidente del senato nella quattordicesimo legislatura come ricordato da fabrizio desposito sul fatto quotidiano a dicembre scorso pera un teorico liberale dell'impunità berlusconiana e poi clericale di destra di marca razzingeriana proprio negli ultimi anni si è schierato contro il pontificato di papa francesco a fianco di monsignori e cardinali che successivamente si sono rivelati fieramente novax dall'arcivescovo carlo maria viganò a raimon leo burk